Partire all'avventura. Sì, ma quale? Partire seguendo i sogni ideali. Cambiare abitudini. Cambiare latitudini. Scoprire una nuova energia. Riconciliare Laura e Sofia. Partire per un weekend o per tutta la vita. Per ricordarsi il valore di ogni singolo sorriso. E dimenticare il capo e il suo viso. Se il comfort è totale, ogni avventura ci fa stare bene. Gamma SUV Citroen con SUV C3 Aircross da 13.950 euro. Citroen. Ben ritrovati da Andrea qua in Cittadella dell'Auto. Sono qua con la mia collega Lara, sempre qua al mio fianco. Mese di ottobre, incomincia a fare un pochino più freschino, forse, perché fino adesso, eh, Lara, il caldo ha resistito. Ma noi siamo pronti, comunque, se fa freddo, a riscaldare un po' i cuori dei nostri clienti e a riscaldarle con delle offerte che sono imperdibili questo mese. Quindi invitiamo a stare comodi, fermi, ad osservare tutte le nostre campagne promozionali. Mese ottobre, mese Peugeot. Quindi soffermatevi, state lì fermi, seduti sul vostro divano e non perdete neanche una delle nostre super occasioni. Abbiamo detto che il mese di ottobre per la Cittadella dell'Auto è il mese dedicato a Peugeot e partiamo subito con la prima offerta. Partiamo con questa splendida 308, 1.6 diesel, automatica, 120 cavalli, allestimento Allur, immatricolazione 2018, allestimento Allur, come sappiamo, è un allestimento super accessoriato, comprende già di serie i cerchi in lega da 17 pollici, sensori anteriori, sensori posteriori, in navigatore, clima automatico, prezzo super 17.500 euro. 17.500 euro abbiamo riservato per quest'auto che ha già un prezzo super, come abbiamo detto poco fa, un extra sconto di 1000 euro per tutti i nostri clienti che acquistano e finanziano la vettura qua da noi in salone. Finanziamento che comprende furto, incendio, attivandalici, calamità naturali e cristalli inclusi nella rata. Continuiamo questo percorso di occasioni in casa Peugeot e passiamo a questa magnifica 308 GT Line SV 2000 HDI 150 cavalli, versione GT Line, versione sportiva, cuore sportivo del gruppo Peugeot. Nella 308 prevede il gruppo farò completamente a LED, abbiamo il cerchio da 17 pollici, assetto sportivo, profili sportivi, interno totalmente in pelle, telecamera, sensori anteriori, sensori posteriori e tantissimi altri accessori che non posso dilungarmi a delencare perché sono stati qua fino a sera. Vi invito perciò a venire qua in salone a visionarla, è un unico esemplare disponibile, ha un prezzo super di 20.900 euro. È una vettura del 2018 con solamente 26.000 chilometri. Prezzo di 20.900 euro, anch'esso scontato di 1000 euro, con il nostro contributo finanziamento, quindi finanzi l'acquisto qua da noi, prezzo super di 19.900 euro, solamente 19.900 euro. Finanziabile fino a 84 mesi con una rata da 250 euro al mese, solamente 250 euro al mese. Passiamo alla nostra piccola Ion, l'auto elettrica del gruppo Peugeot, auto a chilometro zero, a emissioni zero e a consumo zero. Vettura del 2018 è un'auto, chiaramente cambio automatico, con cerchi da 17, presa USB, Bluetooth, climatizzatore e fari fin di nebbia. È un'auto che abbiamo pensato di proporre a un prezzo di 14.900 euro, aggiungerei solamente 14.900 euro, e con una formula finanziaria molto particolare, che prevede anticipo zero e delle mini rate per i primi 36 mesi a 149 euro al mese. Quindi avete capito bene, anticipo zero e solamente 149 euro al mese per i primi 36 mesi per guidare questa fantastica Ion elettrica. Approfittando di questa bellissima giornata di sole, siamo qua in esterna sul nostro piazzale a presentare a Lara la nuova 508 SV. Per la prima volta l'abbiamo anche noi, disponibile aziendale. È una vettura solamente con 5.000 chilometri, immatricolata nel 2019 chiaramente. Parliamo di un allestimento GT Line, macchina meravigliosa, motore 2160 CV e AT8, full optional, cerchi da 18, diamantati neri, portellone automatico, tetto panoramico, faro a LED, navigazione, clima automatico, tantissimi, veramente tantissimi accessori. Colore bianco perlato, che è un colore magnifico, è un'auto che supera un listino di 47.900 euro e presentiamo a un prezzo veramente imperdibile di solamente 35.500 euro. 35.500 euro per salire a bordo di questa fantastica 508 SV, prezzo chiaramente interamente finanziabile, anch'esso con la formula Anticipo Zero e mini rate mensili da 355 euro. Tantissime sono le opportunità questo mese per casa Peugeot, farei una carellata veloce, Lara, per magari approfittarne di questo tempo per far vedere più prodotto possibile ai nostri clienti. Partiamo subito dalla piccola, 208, motori 1.2 benzina o 1.6 diesel, tutte in allestimento Allure, vetture tutte quante del 2018, che partono da un prezzo di 10.900 euro fino al massimo di 12.500 euro, dipende qui dall'allestimento, dagli accessori e dai chilometri della vettura. Continuiamo in casa, sempre in casa Peugeot, con le 308 station, la disponibilità è veramente ampia, qui abbiamo tutti i allestimenti Allure, 1.6 diesel, 120 cavalli, automatico Euro 6 e anche i nuovi motori Euro 6.2, 1.5 diesel, 130 cavalli. Tutte o quasi tutte con cambio manuale, prezzo a partire da 17.900 euro. Continuiamo con la disponibilità delle 308 berlina, anche qui vetture tutte quante del 2018, sempre aziendali con chilometraggio dai 30 ai 35.000 chilometri, parliamo di vetture sia con cambio automatico, l'abbiamo presentata una prima ad esempio all'interno in salone, che con cambio manuale, prezzo a partire da 16.900 euro fino a un massimo di 18.900. Terminata l'ampia disponibilità del prodotto aziendale Peugeot, passiamo in casa Citroen, passiamo subito con la piccolina di casa Citroen, Citroen C1. Prima proposta, chilometro zero, vettura del 2018 in allestimento Shine, motore 1000, chiaramente vettura guidabile e neopatentati. La versione Shine prevede già di serie clima automatico, connettività col proprio telefono, presa USB, Bluetooth, sensori di parcheggio. È un'auto che proponiamo a un prezzo unico di 10.900 euro. È l'unica vettura disponibile in salone, prezzo 10.900 euro, finanziabile con la stessa formula che abbiamo presentato prima con la ION, quindi anticipo zero e le prime 36 mini rate da solamente 109 euro al mese. Ne approfittiamo di questo bel tempo, Lara, per continuare la carellata di prodotto a nostra disposizione in casa Citroen, come abbiamo fatto prima per casa Peugeot. Quindi parliamo subito di C4 Cactus, motorizzazione 1.2 benzina, 110 cavalli allestimento Shine. Sono appena arrivate, sono arrivate giusto sabato qua da noi in salone. Sono vetture immatricolate nel 2019 con solamente una media di 8.000 e 10.000 chilometri. Versione Shine, quindi parliamo di vetture complete di navigatore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera, clima automatico, Bluetooth, viva voce, prezzo esclusivo 16.500 euro. Passiamo alla piccola di casa Citroen, passiamo a Citroen C3, sempre allestimento Shine, presentate questa volta nella motorizzazione diesel, motori chiaramente tutti Euro 6. Queste vetture sono idonee e utilizzabili ai neopatentati, sono vetture del 2018, abbiamo ancora una discreta disponibilità di 5 o 6 vetture con vari colori, ripeto, tutte allestimento Shine, quindi riassumendo, fin di nebbia, clima automatico, Bluetooth, abbiamo la possibilità di avere anche in alcune occasioni, in alcune vetture, il navigatore già di serie, sensori di parcheggio e connettività con il proprio telefono. Sempre, ripeto, vetture del 2018, chilometraggio dai 30 ai 40.000 chilometri, prezzo a partire da 12.500 euro. Continuiamo con il crossover di casa Citroen, il piccolo crossover di casa Citroen C3 Aircross, qui la disponibilità è ampia, parliamo sia di motorizzazione 1.2 benzina 82 cavalli, che di motorizzazione 1.6 diesel 100 cavalli. Allestimento sia feel che shine, ampia veramente disponibilità sia di colori che di rifiniture, tutte immatricolate nel 2018, prezzo a partire da 14.900 euro. È un prezzo esclusivo che abbiamo solamente qui in Cittadella dell'Auto a Bergamo, da 14.900 euro. Naturalmente tutte queste vetture che stiamo analizzando velocemente qua da noi sul nostro parco auto, sono visionabili sul nostro sito Inter. Ne approfitto per ricordarvelo, il sito in internet del gruppo Ghinzani www.cittadelladellauto.it Anche per questa puntata siamo giunti ormai al termine, ma vi invitiamo ad andare sul nostro sito www.cittadelladellauto.it Perché Lara, lo diciamo qua ai nostri telespettatori, abbiamo un'esclusiva, ve la diamo qua a voi, solamente a voi. Stiamo per pubblicare 5 barra 6 vetture 3.800 a chilometro zero, con un prezzo estremamente esclusivo. Sono tutti in allestimento active, vi invito ad andare sul sito visionale nei prossimi giorni. Ricordo www.cittadelladellauto.it Vi aspettiamo alla prossima puntata, un saluto da Andrea e da Lara, qui da Cittadella dell'Auto, Bergamo. Ben trovati da Andrea qua in Cittadella dell'Auto, siamo qua ad ottobre. Chi se ne prega di ottobre? Siamo qua ad ottobre, ottobre feste, dovevi dire? Signora Corsi? Se lei è qui, chi è quello? La mia macchina! Dammi la tua. Ancora tu? Perché non te la compri? Impossibile resistere a Peugeot 208. A marzo fino a 5.000 euro di eco bonus Peugeot per tutti, per circolare sempre. Peugeot.